ma va ma sei te che non gli dai no senza frizia non tra gliela facciamo fare al christian eh gliela facciamo fare al christian Diggi pollastri impiccato ma la fai dai che ti seguo su così ti faccio il rumore io e ti ho fatto io il verso no scusami ma no ricente è la terza volta sarà più fortunato non ce la fa non ce la fa non ce la fa non ce la fa si comunque è stramba questa qua eh cioè la moto lì è veramente stramba si vedi io se ce l'ho tutto il problema che oltretutto vuoi provare come l'altra volta questo non ce l'hai no ma tanto io non lo leggo il problema che l'altra volta andava troppo l'altra volta andava troppo io ho tolto un coso e adesso c'hai un vuoto abbastanza consistente quello è il meno ti raccomando sta con i bassi eh no la zona ah la fai proprio questo frena si frena un po lungo anche piastra di ditta ma fa niente figaro che schizzo è uno schizzo è uno schizzo della madonna eh perché ero attaccato bene se no mi lasciava lì eh eh te lo dà troppo presto cazzo te lo dà presto e di colpo vedi e poi si ferma di colpo anche cioè appena tocchi la freccia si ferma no era meglio l'altra volta però eh perché adesso stacca troppo vado a prendere le chiavi e la rimetto come fuori perché adesso figaro apri e chiudi figaro dammi un attimo che devo andare a prendere le chiavi vai tranquillo era meglio cioè l'altra volta era cattiva ma è un po' più modulabile adesso figaro apri e chiudi apri e chiudi è nello zaino non ho mai visto saltare così tanto non ho mai visto mai di dove erano dietro la ruota mi faceva una risa sul buco e non mi aspettavo che andava via così di figaro attaccato e preso con diavolo ma è stato filmato il buco eh vabbè ma è stato filmato si si ma il mio avrò il parafango qui era acceso lì dietro con il cane ma il contrario il contrario ti volevo vedere ancora con l'elettrica eh adesso appena la mette apposta un pelo però figaro guarda lì quanto apri così è da suicidio